La vita di Dante Bulanti è cambiata radicalmente da quando si è ammalato di Covid. Soffre ancora di una paralisi che l'ha costretto per parecchio tempo a letto e che adesso gli blocca le mani. È seguito da specialisti a Londra e le sue condizioni di salute sono comunque migliorate. Nonostante tutto non può tornare al lavoro. Ogni mattina a risveglio non posso stringere le mani a causa del dolore. Devo prendere le mie medicine e dopo 3-4 ore posso chiuderle. Il trattamento medico ha permesso a Dante di tornare in piedi, ma il Ministero dell'Interno ha rispinto la sua richiesta di permesso di soggiorno. Dante ha trascorso il periodo di lockdown a Milano e a Londra non è potuto tornare in tempo per presentare la domanda. Adesso rischia di dover rientrare in Italia per sempre. Nicoletta, la sua compagna. Mentalmente è distrutto. Sono stata via una settimana con miei figli e l'ho trovato molto giù. È entrato in una spirale negativa, non regge più. E se fossi costretto a tornare in Italia sarebbe la catastrofe per me. Malgrado la Brexit, si calcola che circa 239.000 persone si siano trasferite nel Regno Unito nel giro di 12 mesi fino al giugno 2021, grazie all'appoggio di conoscenti. E come è Dante, il soggiorno di molti altri europei è in bilico. Mi sento tradita. Vivo a Londra da quando ero ragazzina, mi sentivo parte di questa realtà. Adesso sento semplicemente di non essere più la benvenuta. Il Ministero dell'Interno britannico ha riconosciuto che per ragioni vaide alcune persone non abbiano fatto la domanda di soggiorno nei tempi utili, per cui il Ministero stesso farà di tutto per sostenere la loro richiesta. Dopo la nostra esperienza ho cominciato a sentire altre storie simili, persone che vengono cacciate senza considerare minimamente la loro situazione familiare. Siamo solo numeri. Questo paese è diventato l'ombra di se stesso. Dante spera comunque di guarire al 100% e di ritrovare il lavoro a Londra.